E' un uomo che si risponde... Ma non ci vado? Ma c'è un uomo che si risponde... ...e se non risponde... Secondo questo... No, non è meglio... Ma non è meglio... No, ma non voglio... Questa cosa è una nascosta... Prego! Al Jewish TV... ...e lo ho detto... Ma no, ci vado... Ma non ci vado a vedere... Ma che cazzo fate i due eh? Boh... Azzettiamo che l'avevo certo... Grazie. Grazie. No. 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 Poi mi avevano chiamato per fare pulizie, ma non è qua, è a San Gianni la pulizia. Poi ho detto scusi ma me la dà la via e cascava lì. Sei in via della regione e ci arrivo al 258, se fai a Salabberato e arrivo a San Gianni la pulizia, perché arrivo a Cimitero che si andava a rifacchiare. Poi te mi uscino il nostro volo, non è distante, perché era a Salabberato e a Salabro stavaro che c'è un mese. Sveggio! Non è venuto perché è stato senza soli. Ma non è mancato, ma non c'è, ma magari senza soli. Invece puoi venire tranquillamente, perché ti fa il problema con i soli. No, ma non ci fa la funzione in bestie, c'è il tuo... Perchè il profumo. Ma non c'è anche un po' di tempo, ma non sei mai progetto questa, se stai spedendo a cercare di fomare. No, ma non c'è. Poi, se non ho detto allora, oggi, veniva che te scopri. Come ne mi amero, però non è un uomo che devo sanno l'altro? Perché non ho mai detto che non ho mai piccolato a me, ma è più piccolato, ma ho un po' di me nella편. A me spavre lì ho di me e via quel sogno. Grazie.